buongiorno è la terza volta che ci provo a fare questo video speriamo o anche se mi viene la scritta che c'è qualcosa che non va io continuerò vediamo fino in fondo come che cosa accadrà bene dicevo che per tutti coloro che hanno fatto e anche per quelli che non l'hanno fatto in questo caso il seminario online sulla nube della non conoscenza noi abbiamo avuto una specie di tradizione ormai tenete un seminario online e poi abbiamo sentito l'esigenza di incontrarci e l'anno scorso l'abbiamo fatto il 29 di giugno presso la mia casa a castel di casio quest'anno dato che uno dei partecipanti una delle più attive partecipanti a questi miei seminari già nell'incontro che avevamo fatto a roma o meglio a ponzano romano l'anno scorso il 10 di ottobre c'era offerta per fare un incontro con tutti coloro che partecipano a questi seminari un incontro a nella sua casa a mantova quindi il 6 di giugno abbiamo stabilito di incontrarci a mantova mantua me genuit dice virgilio e la pastria di virgilio questo di buono auspicio per tutti noi in questo incontro parleremo del più del meno spero di avere dei buoni soggetti ipnotici accanto anche perché daremo un assaggio tramite i buoni soggetti ipnosi che cos'è quella scuola che vogliamo fare che quella di ipnosi dimostrativa che già diverse volte ho detto che è una scuola particolare che ha una visione dell'uomo particolare particolare nel senso che non la troverete in nessun libro di psicologia in nessun libro di psichiatria e nessun racconto di nessun santone buddista non buddista che sia bene è per giunta questa visione dell'uomo e dell'essenza della natura umana in qualche modo io l'ho proprio brevettata in fondo il mio modo di vedere è che i nostri problemi e questo mi distingue totalmente da tutte le forme di intervento sull'uomo per modificare un comportamento il problema non è nel passato non è che in quello che ci hanno combinato nel passato anzi io vedo con mia profonda disperazione perché io sono terribilmente addolorato quando vedo le persone incastrate in verità in credenze vere propinate dalla cultura moderna che attribuiscono al passato la fonte di tutti i guai attuali presenti la fonte dei guai presenti non sta assolutamente nel passato se non in una piccolissima parte e che il passato forse per varie circostanze o per una deliberata forma di istruzione errata ha reso le persone prudenti oppure le ha resi coraggiosi se l'istruzione del passato ha reso le persone coraggiosi cioè capaci di avventurarsi nell'incertezza della vita bene questi avranno problemi solo se dando un enorme valore a qualcosa per essere felici diventeranno prudenti gli altri avranno dei seri problemi in tutti i settori della vita cominciando dalla scuola che in effetti la scuola è un momento molto importante per imparare a vivere il futuro infatti la scuola posta di quello che impariamo a scuola non ricordiamo proprio nulla o dobbiamo rifarlo tutto ma la formazione che dalla scuola la formazione a rischiare perché la scuola ci dà uno strumento di rischio calcolato l'interrogazione un rischio l'esame un rischio il professore è imprevedibile ma so che se studio da qui a qui forse riduco questo rischio e intanto faccio una grande esperienza che prima di andare davanti al professore tremo ho paura mi faccio mille pensieri posso mettermi lì fare l'esperienza che più mi concentro più voglio riuscire e meno riesco oppure faccio anche l'esperienza straordinario che spesso io ho fatto per fortuna e ringraziando i miei professori che pese volentieri ci mettevano in condizione semplicemente di reagire e non di essere preparati alla risposta questo reagire è una domanda improvvisa a me ha insegnato mi ha messo nella condizione di capire che se ma rischio una risposta non voglio prima sapere se la risposta è accettata o no dal professore ma dico quello che mi viene in quel momento mi accorgo mi sono accorto che riesco a dire e a fare cose impensabili cose che non pensavano eppure di sapere e ho risposto anche bene questa è la scuola la scuola questo ci darà ci aiuta ad affrontare farci fare esercizi per sciogliere il vero problema dell'uomo che è il nodo del futuro il futuro incerto e l'unica cosa certa che c'è e l'altra che viene subito dopo da scoprire la mia scuola ha come nodo il futuro e ha come sottonodo importante il fatto che nel tentativo di passare fra desiderabile il temibile verso un futuro incerto io scopro in modo autovidente che non sono onnisciente e scopro ancora che l'unica strada che ho davanti a me aperta l'unica possibile è quella di trasformare un desiderio una speranza di dire speriamo che ci vada bene speriamo che ce la capiamo e nel caso aggiusteremo quello che io facevo sono andato sempre bene a scuola sono stato sempre promosso e mi hanno messo sempre i voti che cercavo prima di andare un'interrogazione o prima anche di cominciare a studiare dicevo io voglio prendere il massimo e poi nel dialogo interno una vocina mi diceva se poi pd4 una controvocina diceva riparo non posso sta a pensare a studiare e abitare un 4 per ora studio per prendere 8 9 10 poi mi arrangerò e riparerò quello che è stato fatto male perché non posso fare diversamente e in tutto questo se un attimo prima avevo un po il cuore in subuglio e questo cuore in subuglio la scienza moderna poi santoni moderni la chiamano ansia attacco di panico per cui tutta la psicologia moderna la psicoterapea si concentra sull'ansia sull'attacco di panico dobbiamo togliere l'attacco di panico l'ansia se non si fa nulla quindi è un falso problema noi dobbiamo dobbiamo chiedere ai nostri pazienti cosa desideri e cosa temi farli riflettere su ciò che desiderano cosa temi molti se ne sono addirittura dimenticati perché infatti se glielo chiedi molti non lo sanno più anche perché è diventato centrale un altro desiderio un altro guado desidero non avere l'ansia desidero non avere l'attacco di panico desidero non star male e temo di star male questo secondo guado è iatroggio iatroggio dal greco significa provocato dal medico provocato dallo psicoterapeuta provocato dalla cultura medica ed è un autentico disastro per giunta questa cultura moderna da spinge a dare importanza una verità che apparentemente per grammatica sintassi sembra che sia relativa e cioè ogni punto di vista è vero come diceva protagora quindi siamo a livello dei sofisti di 2600 anni fa ma i sofisti non pretendevano che questa verità qui che è un modo della nostra mente una facoltà della nostra mente quella di percepire la realtà e tutte le nostre menti ogni percezione della nostra mente una realtà esterna attenzione può essere valida possiamo avere due punti di vista opposti e ugualmente veri questo però porta a farci pensare che quest'organo non coglie bene la realtà che quando lo applichiamo la realtà esterna noi non cogliamo una verità ma cogliamo un punto di vista che può essere vero i sofisti una volta preso atto di questo hanno inventato l'arte del persuadere e hanno inventato la democrazia cioè dovendo decidere in molti si è votato e quindi la maggioranza dice che va bene mai il relativismo moderno è diventato un relativismo assoluto per cui se io come faccio spesso dico guardate io fondo brevettato questa visione e ho detto guardate la nostra mente funziona così e non funziona colà la nostra noi siamo non siamo onniscienti il nostro problema il futuro non il passato tutti i guai stanno nel fatto che do importanza a qualcosa e temo dato che non sono onnisciente che questo qualcosa non accada e do importanza a qualcosa e lo voglio rendere permanente per essere felice quindi il mio problema non è più nel passato beh tutto questo suona come verità assoluta come punto di partenza per cambiare noi stessi cambiare le nostre abitudini soprattutto cambiare l'abitudine di base che è è quella di rivolgersi al passato per prepararci come a scuola vado a studiare poi mi faccio interrogare tutti noi molte volte di fronte all'incertezza del futuro spesso ci troviamo rivoltati in piedi molte volte ci diamo addosso molte volte ci piangiamo addosso molte volte accusiamo qualcuno del nostro passato per il fatto che mi sento impedito che ho ansia e non riesco ad agire bene spero che questo attrezzo malgrado l'avvertimento possa funzionare correttamente la mia scuola la rivolgo a tutti la rivolgo ai genitori perché come ho fatto spesso e volentieri soprattutto con gli adolescenti e coi ragazzi ho cercato di trasformare dei genitori in psicoterapeuti anche perché sono i genitori che stanno o tutti coloro che si occupano costantemente di ragazzi come gli insegnanti che una volta effettivamente i miei insegnanti sono stati veramente dei grandi terapeuti mentre tutti gli insegnanti dei miei figli sono mi dispiace ma non ho potuto fare a meno che pensare dei disastrosi e ho dovuto spesso correggere i guai che combinavano neanche costato abbastanza perché per due figli li ho dovuti mandare un collegio dove ancora si insegnavano o si insegna una filosofia della vita e soprattutto partiva da una visione dell'uomo fatta alla mia maniera e ho visto che sono stati degli ottimi formatori e ho avuto degli ottimi risultati io spero di ripetere e di poter ridare agli altri quello che mi è stato dato a me quel collegio lì a parte il fatto che il mio collegio che mi ha formato quel collegio lì mi ha dato e mi ha offerto un modo ma soprattutto mi ha regalato qualcosa di inestimabile la formazione alla vita per i miei figli buongiorno